Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo Gesù uscì di nuovo lungo il mare e tutta la folla veniva a lui ed egli insegnava loro. Passando vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte e gli disse Seguimi. Egli si alzò e lo seguì. Mentre stava a tavola in casa di lui, anche molti pubblicani e peccatori erano a tavola con Gesù e i suoi discepoli. Erano molti infatti quelli che lo seguivano. Allora gli iscrivi dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli perché mangia e beve insieme ai pubblicani e ai peccatori. Udito questo Gesù disse loro, non sono i sani che hanno bisogno del medico ma i malati. Io non sono venuto per chiamare i giusti ma i peccatori. Nel Vangelo di Giovanni c'è un'affermazione molto forte su questa questione che dice così che il figlio di Dio è mandato nel mondo per amore. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. E questo figlio di Dio dice così il testo, questo figlio di Dio viene mandato non per condannare il mondo ma perché il mondo si salvi attraverso di lui, attraverso la sua presenza. Gesù fa questa affermazione, non sono i sani che hanno bisogno del medico ma i malati. Io sono venuto a chiamare non i giusti ma i peccatori. E questo è tanto interessante nella chiamata di questo figlio di Alfeo, Levi, Matteo. E tanto lui viene risorto di fronte a questa parola, di fronte a questa chiamata. E viene chiamato Matteo proprio nella sua condizione di fragilità. Dio ci raggiunge così nella nostra vita. Ci raggiunge nella nostra situazione normale, ordinaria. Ma Dio ci raggiunge anche nella nostra dimensione più infima, più ultima. Nella nostra dimensione più bassa. Nella periferia esistenziale della nostra esistenza più discutibile, più compromessa, più fragile. Proprio lì il Signore ci raggiunge e lì proclama una parola di risurrezione. E' molto bello questa risposta di Matteo che, usando il verbo della risurrezione, cioè risorge a partire dalla sua fragilità, non senza la sua fragilità, perché di fatto Dio lo raggiunge lì. La dimensione del male, la dimensione della fragilità è una delle dimensioni più forti, anche più importanti della nostra esistenza, perché ci riguarda. E proprio lì Dio ci raggiunge e intende compiere insieme con noi una storia di risurrezione, una storia di salvezza, là dove noi abbiamo una storia ferita, fallita, compromessa. Lì, insieme con Dio, si può compiere ancora una storia di risurrezione, una storia di salvezza. Si è allavato Gesù Cristo.